ciao paola ciao michael ho visto che sul sito potete fare videochiamate potresti farmi vedere come funziona il touchscreen dell'auto di cui abbiamo parlato ieri al telefono hai fatto bene a chiamarmi per maggiori informazioni eccolo qui te lo mostro subito grazie mille sei stata gentilissima figurati michael e per qualsiasi dubbio non esitare a scrivermi in chat oppure videochiamarmi come hai visto con gruppo carmeli il rischio è zero anche da casa tua contattaci subito per ogni dubbio